Il ruolo dei revisori dei conti all'interno degli enti locali, esercitato dai professionisti, non si limita più solo al controllo formale di mera legittimità in maniera statica, ma è diventata anche una funzione dinamica, propositiva e di supporto alle amministrazioni pubbliche per essere in linea con le norme e con gli interessi dei cittadini. L'ha detto Domenico Airoma, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Napoli Nord, che è intervenuto al forum sul sistema dei controlli in materia di appalti, promosso a Villa di Briano dall'ordine dei duttori commercialisti ed esperti contabili di Napoli Nord. Durante l'incontro si è discusso della figura dei revisori dei conti degli enti locali, che hanno l'obbligo di vigilare anche sulla corretta applicazione del nuovo codice degli appalti pubblici. La logica è quella di coinvolgere sempre maggiormente i professionisti nei controlli degli enti locali, ma è cambiata anche la filosofia, non si tratta più di un controllo che si limita soltanto alla mera legittimità formale, ma al professionista è chiesto di essere parte in qualche modo attiva, cioè di dare consiglio e collaborare non in forma statica, ma dinamica a che l'attività dell'ente locale sia sempre più in linea con le norme e direi anche con l'interesse dei cittadini, degli amministrati. Noi siamo impegnati in primo piano, certamente lo eravamo prima e lo siamo oggi, lo siamo ancora di più in termini di controlli che dobbiamo effettuare nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, il nostro lavoro per carità lo prevede sia nel privato che nel pubblico, ma nel pubblico ancora di più in questo momento ed ovviamente dobbiamo farlo con maggiore zelo perché quando trattiamo del danaro pubblico, del danaro dei cittadini dobbiamo essere maggiormente attenti e quindi da qui partono tutte le nostre ricerche, la nostra attività formativa nei confronti degli iscritti per assicurare sempre un professionista che sia all'altezza del compito in comuni complessi, in comuni difficili, in comuni con tanti abitanti come quelli che abbiamo nel nostro circondario. La nostra professione assume rilievo sempre più importante e determinante perché anche per i revisori degli enti locali, per il controllo di legittimità devono anche adesso controllare che siano ad imbiuti tutte le prescrizioni del codice degli appalti, assumiamo un ruolo sempre più importante e più determinante e io dico sempre molto più professionale anche perché siamo come ho sempre detto una categoria affidabile e preparata e che può dare molto alla società civile, alla società economica. Noi revisori siamo protagonisti chiamati a svolgere un ruolo di controllo ai sensi del nuovo decreto legislativo 50 2016, potere di vigilanza che si estende fino ad arrivare a controllare la legittimità delle procedure di gara per fare in modo di evitare che si possano creare delle passività potenziali da poi tenerne conto in sede di rendiconto. Il ruolo del professionista è un ruolo ancora maggiormente di garanzia nei confronti degli ambienti locali del territorio.